24 liste per 9 candidati sindaco. Alle 12 di oggi si sono chiuse le porte della Commissione elettorale per la presentazione delle liste per le elezioni comunali di Prato. Inizia ora il difficile capillare lavoro del controllo delle firme. Devono essere almeno 350 a lista e se sono presenti dei doppioni, come sembra che sia, verranno annullate alla lista che le ha presentate per seconda in termini temporali. I candidati sindaco sono 9. Roberto Cenni sarà sostenuto da 9 liste. Prato con Cenni, Forza Italia, Udc, Lega Toscana, Milone, Fratelli d'Italia, Alleanza Sociale per Prato, Lega Nord, Io Cambio. Matteo Biffoni avrà l'appoggio di 7 liste. Lista Biffoni, PD, SEL, La Città per Noi, FDS, Scelta Civica e DV. Mario Tognocchi sarà sostenuto da 2 liste, Scaricare tutto tutti e Lista Associazioni per Scaricare tutto tutti. Una lista ciascuno per Emiliano Bonini, indipendenti per Prato e fare per fermare il declino, per Riccardo Bini, La Città Forte, per Carlo Lavinia, nuovo centrodestra e idee per Prato, per Mariangela Verdolini del Movimento 5 Stelle, per Gisberto Gallucci del Partito Umanista e per Alessandro Rubino, Prato Viva. Entro domani la Commissione elettorale terminerà il lavoro di verifica della correttezza di simboli e firme. Un lungo lavoro iniziato già ieri. Se saranno confermate tutte, l'elettore si troverà una scheda lenzuolo in cabina elettorale.